Allora, ci ha raggiunto Maglio Di Stefano, sottosegretario agli esteri del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, in un confronto con Guido Crosetto, su diversi temi, però questa volta partiamo da un tema che forse vi vede vicini come posizioni, che è quello dell'immigrazione, perché per l'Italia non è esattamente d'accordo con questo decreto, poi magari dopo ne parleremo, sul fronte dell'immigrazione sostanzialmente sì, come mai Fratelli d'Italia non è al governo con voi? Beh, dovete chiederlo a Fratelli d'Italia, c'è qui Crosetto, lo chiederemo a lui, a parte gli scherzi. Visto che dei punti di contatto ci sono. Le valutazioni sull'adesione o meno a un governo dipendono non da alcuni punti di contatto, ma dalla prospettiva di un governo, magari Fratelli d'Italia non la condivideva in toto, ma questo, ripeto, è un ragionamento che devono fare loro. No, perché neanche sulla Lega c'è il famoso contratto con dei punti, quindi... Diciamo che la differenza è che l'accordo tra noi e la Lega serviva proprio a far partire il governo perché non ci sarebbero sei numeri altrimenti, quindi abbiamo puntato sul contratto in quest'ottica e tutti i gruppi minori, mi scuserà Crosetto, intendo di dimensione ovviamente... Me scuso me, via. Esatto. E avevano poi la possibilità o meno di aderire, hanno fatto delle scelte di gruppo politico ovviamente. Voi condividete in assoluto quello che sta facendo Lega 5 Stelle, il governo sul fronte dell'immigrazione? O andreste oltre? No, andremo oltre. Giorgio Meloni... Ha parlato di un blocco navale. Fin dall'inizio, cioè parla di trovare un sistema per non far partire le navi. Siccome il tema, siccome nessuno può essere così stupido da pensare che anche solo una vita persa non sia un problema per chiunque si ponga... pensi di fare politica, allora il fatto di non farli partire diventa il modo principale per evitare che ci siano rischi in mare, quindi il tentativo di, con accordi con la Libia, fornendogli le navi, aggiungendo dopo l'accordo con il governo libico, le nostre navi alle loro, perché il blocco navale dovrebbe essere una cosa fatta non contro la Libia, ma con la Libia, quindi il tentativo di non fare staccare i gommoni dalla riva dovrebbe essere fatto in accordo, quindi un modo diverso di affrontarla, che poi dovrebbe andare con investimenti in Africa, questo poi lo lasciamo dopo perché il problema sarà sempre di più quello di un paese da 1 miliardo e 200 milioni destinati a diventare 2 miliardi e 4, dove le parti ricche se le sta comprando la Cina, dove porta i cinesi e caccia gli africani, le parti poveri diventano sempre più povere e queste persone devono mangiare o avere una speranza di sopravvivenza, per cui questa massa sempre di più si spingerà verso l'Europa che vede come unico punto d'arrivo per cercare di avere un futuro, quindi o il tema se lo pone l'Europa e l'ONU per cercare di cambiare, di fare una politica per l'Africa, oppure questo problema, ma adesso è troppo grande perché lo gestisca l'Italia, diventerà talmente grande che non potrà gestirlo l'intera Europa anche volendolo tra qualche anno, lo voglio dire adesso perché voi ce ne ricordiamo da qualche anno, ci ho detto Salvini e il governo hanno posto il tema in modo pesante all'Europa innanzitutto, non è più un problema italiano, non lo consideriamo più un problema italiano, lasciamo perdere il modo con cui è stato fatto, prima c'era la polemica, i porti chiusi, i porti non chiusi, hanno posto un problema con forza l'Europa, adesso bisogna oltre a porre il problema dare soluzioni. Che è quello che stiamo facendo? Nel senso che Crosetto, che tra l'altro conosce bene i temi anche legati alla difesa, sa benissimo che il problema dei respingimenti o dei porti chiusi o del blocco navale è un problema prima di tutto di accordi bilaterali, perché fare un blocco navale a un paese è come dichiaragli guerra se non c'è un accordo con quel paese e la Libia in questo momento ha un enorme problemi in realtà di identità politica interna, cioè non ha un governo stabile, c'è il governo Serrage riconosciuto dall'Unione Europea ma non effettivamente riconosciuto da tutto il territorio, che è diviso tra est e ovest con il generale Haftar e quindi c'è un discorso che prevede la nostra ancazione con paesi come l'Egitto e anche la Russia che hanno un'influenza enorme su quella parte di paese, quindi diciamo che il governo italiano e questa è una cosa che è evidente, basta guardare i viaggi che si stanno facendo come ministeri, ha deciso di dedicare il massimo sostegno alla Libia in questo momento su tutti i fronti bilaterali dei ministeri coinvolti, quindi è andato a Moavero, Salvini è andato in Egitto per lo stesso motivo di cui parlavo prima, Conte farà lo stesso tipo di visita sostanzialmente e andrà il ministro per la difesa, perché l'obiettivo è dare alla Libia prima di tutto quello che serve al suo popolo, ovvero stabilità politico-sociale, dopo di cui si potrà quindi poter andare avanti, perché in realtà, questo lo dico quasi contro gli interessi del mio governo, il piano di esempio di Euna Formed, che era la missione cosiddetta Sofia, che agisce per combattere i trafficanti di uomini e di beni anche, era nata per combattere il traffico di petrolio addirittura all'inizio, aveva già previsto una seconda fase, una terza fase, che scendeva sempre di più all'interno della Libia come stabilizzazione. Non è mai progredita proprio perché la Libia non è in grado di sostenere questo tipo di accordo in questo momento. Noi stiamo cercando, rinforzando intanto la Guardia Costiera Libica e soprattutto, come ha fatto Conte in questi giorni, pretendendo da il COPS, il Consiglio di Sicurezza Europeo, di modificare le regole di ingaggio di questa operazione Sofia e fare in modo che i porti di sbarco delle nostre barche non siano soltanto l'Italia, come aveva fatto Renzi sostanzialmente, ma tutti i porti sicuri in Europa, di ampliare questa soluzione a tutti i paesi europei. Nel frattempo si stabilizza la Libia, a quel punto si potranno fare gli accordi di cui parlava anche Crosetto. Soprattutto c'è il macro tema del chi oggi sta migrando, perché sappiamo che in verità oggi stanno migrando soltanto le classi medie africane, perché le classi veramente povere non hanno neanche quei 5 mila euro che gli servono per migrare e perché lo stanno facendo. C'è un tema molto discursi in questi giorni e la verità probabilmente è che dovremmo riflettere sull'influenza europea in quei paesi, la cosiddetta franca fric su tutte, ovvero l'influenza delle ex colonie francesi e anche quella italiana. E questo è anche un po' l'ostacolo in Libia, perché l'Italia viene sempre vista in Libia con la doppia modalità. Sei il mio paese storicamente vicino alleato, ma sei anche quello che in Libia ha fatto i disastri che ha fatto. In questo quadro complesso, che va a toccare più fronti, come giustamente ricordava anche lei, il rischio non è quello fino a questo momento di aver, per esempio, criminalizzato eccessivamente o totalmente solamente le ONG? Ma è una cosa certa, uno Stato il controllo ce l'ha delle sue navi della guardia costiera e su quelle chiaramente possiamo garantire il loro operato. Le ONG hanno dimostrato ampiamente, anche con un utilizzo mediatico contro il nostro governo, non inteso quello del Movimento 5 Stelle, ma contro qualunque direttiva, cioè anche quelle non dure, come alcune possono essere sembrate, di voler fare come gli pareva, semplicemente. C'è la logica finora è stata, le ONG, siccome noi se l'abbiamo vita... Sono ONG che hanno firmato un regolamento, il codice Minniti. A parte che non l'hanno firmato tutte. Solo una non ha firmato. Ma comunque il codice Minniti, se tu lo firmi poi lo devi anche rispettare. Ad esempio il tracciamento della nostra guardia costera sulle ONG dimostrava come andassero direttamente anche in acqua libica a recuperare imbarcazioni. Questo io lo voglio dire chiaramente, do per certa la buona fede delle ONG, di tutte le ONG, probabilmente. Ma il cosiddetto pull factor, di cui tanto si parla anche negli regolamenti dell'Unione Europea, è un fattore reale. Se tu ti porti a 20 miglia alle coste libiche, stai dicendo ai trafficanti che non gli serve neanche montare un motore sulla barca, basta che la spingano a Remi fino a dove serve e poi ci penseranno alle ONG. E le ONG addirittura in alcuni casi caricavano sulle coste libiche e puntavano dritte verso l'Italia, addirittura a volte verso le piattaforme dell'Eni, che sono a metà strada tra l'Italia e la Libia, per scaricare i migranti lì così che se ne occupasse l'Italia. Allora io capisco la buona fede, capisco la necessità di salvare vite, lo diceva anche Crosetto, è un dovere, non è un principio politico, è un dovere salvare vite e non ne stiamo lasciando morire nessuna sotto la nostra responsabilità. Mi ha anche tanto evidente che non puoi svuotare il mare con un cucchiaino e pensare che l'Italia possa farsi carico di questo problema per sempre. Un'azione politica forte come quella che stiamo facendo serve a svegliare l'Italia. E devo dire che ieri ho letto gli ultimi comunicati stampa dal COPS, dalla riunione di sicurezza di cui parlavo, dove si parlava finalmente di accettare la proposta di Conte, vediamo poi come la vorranno accettare, perché poi finché non ero su bianco io in Europa non mi fido di nulla di quello che si dice, perché ognuno dice la sua in mille modi diversi, ma finalmente c'è un concetto concreto. Ma come mai in questa linea legittima dal vostro punto di vista che avete su come affrontare il tema dell'immigrazione, quello che manca è sempre, glielo dico perché è accaduto proprio l'altro giorno, manca quella parola in più di pietà, cioè quando vediamo galleggiare il corpo di una donna e di un piccolissimo bambino, sembrate andare sempre oltre senza fermarvi un attimo a dire che interessa anche a noi quello, capisce cosa voglio dire? Guardi io purtroppo... Che questo governo ha preso una linea durissima per certi versi, però che va avanti senza neanche dare un segnale... Guardi io purtroppo di bambini non vi stimolere tanti perché ho fatto pure la cooperazione in Repubblica Democratica del Congo, se c'è una cosa che non ho è l'assenza di pietà. Il problema è che bisogna avere la capacità di dare una programmazione politica e quindi mentre giustamente con piangi morti in mare che però ripeto non sono responsabilità italiana perché questo anche vittimismo del nostro paese su alcune cose è diventato stucchevole perché sembra che se partono dalla Libia e arrivano in mare mediterraneo è colpa dell'Italia. Ripeto, fino a prova contraria, uno dei più grandi disastri per l'Africa è la Francia, la Franca Frick e la dominazione cano su tutte le risorse africane, ad esempio, però nessuno parla dei francesi come responsabili dei morti in mare. Noi perché geograficamente stiamo lì, ma se un governo si ferma soltanto e non anche soltanto a piangere i morti in mare come hanno fatto i governi Renzi, Gentiloni e quelli prima di lui, non fa programmazione politica. Noi stiamo cercando di vedere il problema a vent'anni, a cinquant'anni e a risolverlo, poi i morti in mare non ci saranno più del tutto. È così, Crosetto, non ci saranno più del tutto. Si prova, non è che abbiamo la bacchetta magica. Il tema è che, stante le cose come sono adesso, ce ne saranno sempre di più, non per colpa di chiunque governa in Italia. Il problema è, come dicevo prima... Il fatto è che quel bambino dovrebbe appartenere a tutti. Quel bambino, come altri che muoiono per la guerra, per la fame, a me sconvolgono quelli di pubblicità che passano ogni tanto in televisione e ti invitano a versare soldi per combattere la fame nei paesi africani, come diceva giustamente lui, questi non partono neanche dall'Africa perché non riescono neanche arrivare al balcone. Il tema è l'Africa, il tema alle porte del mondo, il problema che il mondo non vuole guardare in questo periodo è cosa sta succedendo, non solo in Africa, ma adesso noi parliamo di questa perché siamo Italia, quindi ognuno parla della cosa che è più vicino, il problema più grande che è più vicino, il problema è l'Africa. Quindi qualunque sia il nostro... se anche domani noi decidessimo di dire andiamo con tutte le navi disponibili in Italia a prendere tutte le persone che partono da Libia, avremo come risultato che ne partono 10-20 volte di più, che continuerebbero a partire, aumenterebbero quelle che partono. Le porteremmo su un continente dove non abbiamo sbocchi per loro, se non quelli di, entro certi limiti, di abbandonarli a se stessi in un'altra nazione rispetto a quella da cui partivano, culturalmente lontana da loro, non preparata a riceverli, e avremo nonostante quello morti male, perché non avremo mai le risorse per trasportarli tutti, perché comunque aumenterebbe a dismisura l'immigrazione. Per cui il tema è quello, il tema urgente, che è quello tipicamente italiano e quello importante, che è una gestione di questa crisi, non di immigrazione, di, come la chiamano i tedeschi, spostamenti di popoli. I tedeschi non parlano più di immigrazione, hanno coniato un termine che significa spostamenti di popoli, che per dare la visione anche nella parola del fenomeno drammatico che stiamo vivendo. Il tema è, si affronta pensando, come dicevamo prima sul decreto lavoro, pensando, provando, soluzioni, noi abbiamo l'abitudine di affrontarlo mediaticamente. Le parole d'ordine, gli hashtag, non è quello il modo con cui si affrontano i problemi. Purtroppo la politica italiana ha una deriva, è come dare i titoli ai decreti, no? È iniziato Monti, salva vita, salva Italia, spinge Italia, rafforza Italia. Poi l'effetto era l'altro, lui partiva con il salva Italia, crescita, loro sono partiti con dignità, il prossimo sarà carità, poi giustizia, per cui stiamo, ci affidiamo alle parole, non ai contenuti. Io vorrei più pensiero, più palma, più riflessione, perché i temi di questo drammatico periodo che ci hai dato di vivere sono molto più complessi di quelli di 20 anni fa, di 30 anni fa? Assolutamente, sì. No? No, Giacalone? Sono diversi, sono diversi, 20 anni fa, poco più di 20 anni fa, chiudevamo vittoriosamente il nostro mondo una stagione difficilissima, la stagione della guerra fredda. Vi ricordo che nel nostro paese ci si armava con i missili nucleari perché avevamo missili nucleari puntati contro di noi. Noi lo potevamo, mai uspitevamo quelli stranieri, ma non lo abbiamo mai detto. Nei tedeschi, le ragioni ovvie. Però volevo tornare su un punto, intanto circa la formazione del governo, forse è meglio non dimenticare quello che continua a ripetere Giorgia Meloni, cioè che loro non fanno parte del governo perché su di loro c'è stato un veto alla partecipazione del governo. Oggi l'hanno risolta molto più, sì, elegantemente. Ma sulla questione dell'immigrazione questo governo, a mio avviso, ha compiuto un passo significativo, cioè ha detto chi sbarca qui sbarca in Europa. E questo è un passo positivo, interessante, però poi bisogna trarne tutte le conseguenze. Prima venivano giustamente e correttamente ricordati, per esempio, i viaggi in Egitto. I viaggi in Egitto sono una sponda sul lato Haftar. La Libia non è attualmente in preda a un disagio sociale o economico, in preda a una sorta di guerra civile con governi diversi. Il governo precedente, Gentiloni, aveva scelto di chiudere degli accordi sostanzialmente verso il lato del Fezzan, cioè prima che arrivassero sulla costa. Se adesso il governo, non lo so, è una domanda, avesse deciso invece di cambiarsi, cioè mollarsi sulla parte invece della costa per fermare le partenze lì, è difficile andare d'accordo con entrambi i governi che insistono sulla costa e soprattutto non esiste questa possibilità in Unione Europea, perché l'Unione Europea ha riconosciuto uno dei governi che non è quello di Haftar, appoggiato dagli egiziani. Questo è un punto di politica estera che non può essere lasciato indeterminato perché ha diverse implicazioni, comprese economiche di gas, dei giacimenti scoperti da Leni e poi c'ha quegli aspetti che prima correttamente Corsetto ricordava, cioè se non li controlli lì, in mare qualcosa succede. L'obiettivo è, infatti l'abbiamo riconosciuto più volte, anche Moavero, il ministro degli esti Moavero l'ha ripetuto, l'obiettivo è andare sulla strada tracciata dall'Unione Europea, quindi con il riconoscimento di Serrage, con l'obiettivo però di arrivare a elezioni, perché un presidente non lo può scegliere un paese straniero o un'organizzazione internazionale straniera. Il ministro degli esti per evitare ha detto una cosa diversa, ha detto non è che le elezioni ci risolvono nulla, il problema non è correre le elezioni. Sì, però ha detto, perché il progetto anche europeo è, intanto mettiamo Serrage, facciamo sistemare un po' le cose e poi andiamo al voto. Il problema non è andare al voto, il problema è andare al voto con una società sana e che possa votare liberamente e possa scegliere il suo presidente in modo libero. E ricordo che paesi come la Libia, ma anche la Siria ad esempio, storicamente non sono il classico paese, lasciatemi dire, arabo incasinato, sono paesi che hanno un loro livello di culturale, democratico, economico importante, poi chiaramente non possiamo paragonare democrazie, mele con le mele, pere con le pere, questo è evidente, però nel loro intendere la democrazia sono un altro rispetto ad altri paesi, sia dell'Africa che del Medio Oriente. Però la scelta europea non può essere una favoletta. Riconosciamo Serrage tutto a posto. No, bisogna andare a parlare con gente come Aftar, perché altrimenti è inutile dire, non puoi dire ad Aftar da domani il presidente Serrage, se prima non lo convince ad andarsene dalla zona che comanda in questo momento, liberare le risorse economiche libiche, perché è evidente che finché la NOC, l'ente nazionale per il petrolio libico, non ha il controllo totale delle risorse libiche, l'economia non riparte al 100%, oggi la Libia esporta circa la metà del suo potenziale di esportazione al giorno di petrolio, ad esempio. Sono tanti fattori che il nostro governo sta cercando di affrontare bilateralmente con tutti i ministri coinvolti per far sì che si arrivi a dare le condizioni affinché la Libia possa realmente stabilizzarsi, andare al voto e avere un presidente e un governo unico. A quel punto sarà tutto più realizzabile, più facilmente realizzabile. Posso dire una cosa che non è politicamente corretta. I governi devono agire secondo la realpolitik, cioè c'è un atteggiamento ufficiale e poi c'è l'attività di schede e poi c'è l'attività di governo. L'atteggiamento ufficiale si tratta, c'è un governo riconosciuto in Libia, nella realpolitik con cui un governo deve muoversi, siccome mezza Libia è governata da Aftar, qualcuno con Aftar e lì c'è la parte più ricca del paese, tra cui gli interessi fortissimi dell'Eni, qualcuno ci deve parlare. È normale, lo fanno tutti i paesi, anzi noi siamo quelli che in Libia ci muoviamo in modo più evidente, perché noi non utilizziamo come hanno utilizzato i francesi e i tedeschi per diversi anni i loro servizi per cercare di ledere i nostri interessi economici, voglio dirlo in modo chiaro e esplicito. Ci sono paesi che sono mossi in Libia, partendo dalla guerra in poi, soltanto per togliere il peso economico che noi avevamo in quel paese e di fatti ce l'hanno fatta. Siamo passati dal 70% del nostro fabbisogno petrolifero che arrivava dalla Libia a un 26%, l'altra parte sia perché producono meno petrolio, sia perché se le sono prese compagnie di altri paesi che prima non c'erano è passata da altri e quello è stato il danno fatto in Libia partendo dalla Francia, perché ricordo che Libia era il paese che aveva il più alto rendito pro capite in Africa, 11 mila dollari, 11 mila dollari e avevamo chiuso accordi che ci davano l'Italia nello scacchiere africano un peso che adesso ha completamente perso e che va in qualche modo ha recuperato. Ci ho detto, partecipò anche l'Italia a quella cooperazione. Io mi ricordo, c'ero, provai a urlare l'assurdità di quell'intervento. Ci ho detto, adesso parliamo di Libia, il tema è va oltre la Libia perché la Libia è il punto di partenza in questo momento. E fin qui diciamo così Crosetto potrebbe stare nel governo con il 5 Stelle, però noi adesso andiamo in pubblicità. Abbiamo bisogno di uomini di pesto. E andiamo però su un altro capitolo che è anche quello che riguarda il lavoro contro il quale appunto la stessa Giorgia Meloni, insomma è stata durissima, ha usato parole durissime contro il decreto, il cosiddetto decreto dignità. Tra poco. Allora, voltiamo pagina. Voglio chiedere subito a Di Stefano, poi arriviamo anche al decreto dignità. Il caso Ilva, perché questa rischia di essere il prossimo step, anche se naturalmente non è di competenza, insomma, Di Stefano è sottosegretario agli esteri, però c'è stato il parere dell'ANAC che ha detto che ci sono alcune criticità. E adesso che succede? Perché alcuni giornali parlano di un blocco, di una possibilità che potrebbe sfumare per l'Ilva e Taranto che, insomma. Noi da sempre, anche da quando eravamo all'opposizione dell'ultimo governo, abbiamo detto sul Ilva una cosa molto chiara, non ci può essere soltanto il ricatto occupazionale, ci deve essere anche una prospettiva reale per la fabbrica e per i dipendenti della fabbrica, perché finora si è sempre agito sul dobbiamo mantenere i posti di lavoro, quindi va bene tutto, buttiamo giù tutto. Noi dobbiamo cercare di far sì che la fabbrica abbia un futuro che garantisca livelli di salute per la città, perché ricordiamo, quando si parla di Ilva spesso si dimentica di dire che a partire i tamburi che lì vicina è il 6% di mortalità infantile per tumori più alto della media nazionale, è per l'industria che oggi sostanzialmente è inadeguata al compito che ha, perché è rimasta purtroppo per via di mancate manutenzioni e tutto ferma probabilmente a mezzo secolo fa. Poi l'ANAC ha espresso questo parere, evidentemente l'ANAC ha detto giustamente che Antone non fa scelta politica, dice quello che c'è di problematica, ieri Di Maia ha convocato un tavolo diciamo urgente sulla questione, del quale però non sappiamo ancora gli esiti. Io credo che l'approccio giusto sia quello avulso da preconcetti, cioè vediamo cosa realmente si può fare di questa azienda, un po' come quando si parla di Alitalia, in qualche modo c'è una similitudine tra le cose e poi procediamo, però dobbiamo aspettare un pochettino che i ministri si riuniscano tutti su questo tema e capiscono qual è la condizione reale delle cose. C'è il rischio che Arsolo Vittal vada via? Sì, assolutamente sì. Che sono quelli che hanno vinto la gara, insomma. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il rischio è perdere uno dei contenuti, quello a cui sembrava dovesse occupare. Il problema ILVA è un problema enorme, il rischio è di perdere la fabbrica, quindi i posti di lavoro, quindi la produzione dell'acciaio. Capisco che adesso che è intervenuto Cantone ormai il problema non è più politico, perché avendo fatto intervenire Cantone adesso il tema è aspettare di capire cosa dirà e quindi la palla è stata buttata avanti e questo rischia di far perdere ogni possibile soluzione sull'ILVA. Io sono molto preoccupato perché l'ILVA è un po' drammatico perché quando c'è la salute tutto cambia, non è solo un problema industriale. Ma far uscire l'Italia da determinate produzioni significa togliere la possibilità di essere tra le economie ancora forti. Quindi va riconvertita, va garantita la sicurezza dei cittadini e di quella città, ma perdere quella produzione significa fare un regalo enorme ai tedeschi che la nostra industria pagherebbe non solo la nostra industria dell'acciaio, ma tutta quella collegata. Fa parte dell'essere una potenza industriale. L'Italia oggi è la seconda potenza industriale d'Europa a perdere la produzione di acciaio. L'acciaio non lo facciamo solamente all'ILVA a Taranto, si fa in diverse parti d'Italia, quei problemi nascono a Taranto quando l'ILVA era pubblica peraltro, non era dello Stato. Detto questo, tra le ipotesi di riconversione c'è anche quella dell'uso del gas e a posto di altri combustibili. L'altro giorno il Presidente della Repubblica, Neanzei Barigian, ha detto la TAP si farà. Il TAP per farsi bisogna che si bughi in Puglia. Quello è un problema ancora irrisolto. La TAP arriva in Puglia e il gas arriva in Puglia o no? Il problema non è se arriva in Puglia, ma è dove arriva in Puglia, perché c'è una bella differenza tra parte e parti, perché nel progetto attuale, quello confermato dal governo Renzi e poi Gentiloni, si prevedeva l'approdo esattamente a San Foca che è una riserva naturale, con a Merendugno che ha chilometri di costa meravigliose, riserva naturale l'appunto e quindi quello è il problema della comunità locale che ha fatto giustamente le barricate e noi l'abbiamo sostenuta per tanto tempo. Quello che ha detto infatti il Ministro Moavero ieri insieme al Presidente della Repubblica, Mattarella, è che bisogna ora realmente considerare la richiesta delle comunità locali e quindi anche del Presidente della Regione e dei sindaci, per capire dove far approdare l'opera, che è un'opera già completa al 72%, quindi è chiaro che non si può buttare in aria, anche che c'è una perdita stimata di circa 8 miliardi di euro, però è altrettanto evidente che non possiamo ripetere sempre comunque gli errori fatti con la TAV e con altre grandi opere. Purtroppo siamo già a uno stadio avanzato e quindi possiamo oggi soltanto dire che dobbiamo considerare le richieste della comunità locale e capire dove farla approdare, ma è un'opera che sicuramente approderà e quindi... Anche a tempi questo avviene, perché detta così è una cosa che dura... No, ma lascia da fare soltanto, tra virgolette, è chiaro, i tempi ci sono, una valutazione di impatto ambientale, un coinvolgimento delle comunità locali, ma tanto l'opera non è già qui, è ancora dall'altra parte del mare, fortunatamente, ci vogliono dei tempi tecnici, ma l'abbiamo garantito. Questa come una notizia positiva, forse siamo, come suggerimento, c'è il tempo di fare una legge, in Francia c'è una legge che si chiama De Bappi Blic, tutte le volte che si fa una grande opera si dà l'opportunità alle comunità, ai comuni, alle province, alle regioni di esprimersi, poi dopo non rompi più le scatole, cioè l'opera parte e finisce. Beh, devi anche ascoltare quello che ti indicano però. Certo, ma c'è una trattativa per cui si arriva a una soluzione logica, tecnica, terza, e una volta che si fa si fa l'opera. Noi dobbiamo arrivare, perché in Italia uno dei temi e dei problemi che avremmo sempre di più è quello di... Le grandi opere servono, sì. Pensiamo al terzo valico, avere o no il terzo valico significa avere o no la possibilità di fare di Genova uno degli attori portuali nel mondo. Non averlo significa rinunciare a questo, regalarlo al Pireo oppure rafforzare Rotterdam, visto che ormai passare dall'altra parte dell'Africa costa molto di meno. Allora, noi possiamo permetterci di non sfruttare il cosa siamo, c'è una piattaforma logistica in mezzo all'Europa? No. Allora, per fare queste cose occorre grandi infrastrutture viarie, ferroviarie, aumentare i porti e questo si fa anche velocizzando le opere. Terzo valico, e non è colpa del governo attuale, da quanto è che ne parliamo? 15 anni? 20 anni? La Tav? Io ero bambino quasi. Sì, ma il problema è che quello che dice Grosetto non è scontato. Non arriviamo mai alla fine. Non arriviamo mai alla fine. La Tav non vorrei diventarci vecchia. Quello che dice Grosetto però non è scontato, non è neanche un cambiamento politico da poco, cioè dire coinvolgiamo le comunità locali realmente, quando in passato il coinvolgimento era vi metto l'area militare, l'esercito che allontana i manifestanti, è una bella differenza. Ma non è così anche in Italia se la conferenza servizi si fa. La Tav se si va tuttora a vedere la zona è il cantiere con i militari che lo proteggono, cioè vuol dire non è mai stata coinvolta la comunità locale. I presidenti di regione hanno sempre fatto il doppio gioco, parliamoci chiaramente, di dire ai loro cittadini ci pensiamo noi e poi al governo erano gli stessi che governavano e quindi andava tutto liscio. Allora non è che non è stata coinvolta la conferenza servizi, esiste anche in Italia. Se il presidente della regione, come dice lei, lo dice lei, fa il doppio gioco, ha un problema del presidente della regione, non è che devo coinvolgere, è un problema della politica, è un problema della politica, certo. Perché il peggior passo compiuto dal governo per voi è il decreto dignità. E' anche il primo. E' anche il primo. Perché è il primo. Cosa c'è che non va? Perché, come dicevamo prima, non affronta il problema, cioè le soluzioni date peggiorano. Peggiorano. Intanto è la logica, intanto prosegue, loro hanno criticato Berani la logica del Jobs Act, proseguono nella logica, cioè cambiano i termini, cioè tengono l'imbalcatura del Jobs Act e ne cambiano i termini. Il risultato è un risultato, quando commercianti, artigiani, industriali, IMS, lasciando la parte boeria, tutte le persone ti dicono, l'impatto di questo decreto è quello di aumentare il cuneo fiscale, cioè il costo del lavoro. Perché comunque tu, aumentando sui contatti di somministrazione, aumentando dello 0,5 ogni rinnovo contattuale, hai come punto finale quello di portare al 47,5% il cuneo fiscale, quando noi siamo il terzo paese più caro nell'Ocse, quando la media è il 37, per cui capisci che quando tu hai differenziali di questo tipo, hai una competitività del tuo costo di lavoro che solo per colpa dello Stato è inferiore rispetto agli altri, quindi dà più difficoltà all'impresa. E poi il risultato è quello di aumentare il contenzioso, perché la reintroduzione della causale in un paese come il nostro è quella, dare meno flessibilità ai rapporti con il nostro è completamente diverso, per cui bisognava invece probabilmente cambiare l'approccio a 360 gradi rispetto al Jobs Act, cosa che non hanno avuto il coraggio di fare. E poi occorreva farlo con meno fretta, secondo me qualunque governo deve dare risposte non perché l'ho scritto nel programma o nel contratto, perché servono e serve, cioè la logica del decreto dignità c'è, esiste, è forte, è sentita, ne abbiamo bisogno, la risposta è sbagliata. Bisogna sedersi con le parti sociali, sindacati, e poi accettare, accettare, e poi l'altra cosa, e finisco, l'abbiamo vista ieri sul terremoto, sul terremoto non hanno accettato gli emendamenti perché era già passato al Senato e quindi sarebbe dovuto tornare, e poi hanno accettato tutte le cose che non hanno accettato come emendamento, l'hanno accettato come ordine del giorno, che è come dire al Parlamento, avete ragione, i temi che avete posto sono reali, c'è bisogno di farli, siccome per motivi tecnici non li abbiamo accettati, ma ve le accettiamo come ordine del giorno che non serve a niente. Mentre invece sarebbe stato più logico dire ok, questa correzione ha senso, questa ha senso, questa ha senso, ragioniamo sui tempi, io vi accetto queste 10 correzioni, 15 perché hanno un buon senso, voi mi accorciate però i tempi del dibattito, non fate opposizione alla Camera e mi date tempi veloci al Senato. Questa secondo me è la dialettica politica, almeno quella con cui noi ci siamo proposti come Fratelli d'Italia, poi capisco che siano partiti che invece hanno come obiettivo non quello di raggiungere il miglior risultato legislativo possibile, ma quello di rompere più le scatole possibili, allora il tema è diverso. Insomma Di Stefano dice, concettualmente c'è però avete sbagliato. Crozetto è tanto più esperto di me del Parlamento che sa benissimo che quello che ha detto però nasconde parte della realtà delle cose, cioè, distinguemole due cose, parto dall'ultima che è più veloce, gli ordini del giorno, quando si parla di un decreto come il decreto terremoto, servono perché? Siccome purtroppo per fortuna il decreto terremoto in un paese come l'Italia si fa più volte in una legislatura a volte, perché succedono fenomeni sismici in continuazione, bisogna intervenire d'urgenza per sistemare alcune problematiche, se io non do risposte immediate, che tra l'altro i cittadini coinvolti dei terremoti di cui abbiamo discusso in questo decreto aspettavano da tempo e faccio il rimpallo di quattro volte tra Camera e Senato, non arrivo mai a portargli dei benefici, allora prendo intanto quello che posso mettere e gli ordini del giorno li userò per il prossimo decreto dove si possono inserire e quindi non è vero che non servono a nulla, non servono a nulla se il governo poi li ignora, se il governo sinceramente li vuole portare avanti, li porta avanti al prossimo decreto. Sul decreto dignità, questo non è un decreto riforma del lavoro, è un decreto dignità e infatti parla non soltanto di correggerla con le strutture del Jobs Act, che dove tra l'altro né Boeri né Confindustria hanno mai detto nulla quando ha rovinato la vita di centinaia di migliaia di giovani italiani e c'è anche tutta la parte dell'azzardopatia ad esempio, questo è un decreto che serve a sistemare alcune distorsioni legate proprio alla dignità, non è un titolo messo a caso, cioè oggi il nostro paese è vittima del gioco d'azzardo, è vittima della precarietà assoluta e questo decreto serviva a sistemare questo, io poi voglio dire sinceramente in difesa dei nostri imprenditori, io contrasto la logica che l'inserimento della causale nel contratto aumenti i contenuti, perché significa far passare il messaggio che tutti i nostri datori di lavoro vogliono approfittare del precariato, invece no, perché l'Italia è un paese di gente che veramente a volte io vedo imprenditori che non danno stipendio a se stessi per dare loro dipendenti, ma che non è la logica di Crosetto, lo so, però è la logica che si è discussa in questi giorni, i nostri imprenditori vogliono fare impresa bene e una riforma del lavoro potrà anche coinvolgere tutte le parti di cui parlava Crosetto, ma questo decreto serviva ad altro, serviva ad affrontare la precarietà totale che abbiamo in Italia e il problema del gioco d'azzardo e dell'azardopatia che crea vittime in Italia, vittime, non soltanto, non è un gioco, è una cosa seria. Però quando poi le statistiche dicono che appunto a quei ragazzi dopo domani non verrà rinnovato il contratto... Questa è una barzelletta totale perché la riforma agisce sui diritti, non su quello che si crea a livello occupazionale, quello è il frutto del livello economico del paese, di tutto il contesto delle leggi che operano per poter creare lavoro, quindi del benessere medio, se valuti gli effetti indiretti negativi, devi valutare anche quelli positivi, allora se io do stabilità aumentano i consumi, aumenta quindi anche la crescita del paese. Un anno, 11 mesi e 29 giorni, con il decreto so che da domani perdo il lavoro. Non è detto, perché è sicuro che è così. No, perché avendo il tuo datore di lavoro, incentivi per il passaggio a tempo indeterminato... E non ci sono, non ci sono. Inferiamo lo 0,5% di incentivo, quindi quello che diceva Corsetto salta già. Introduciamo lo 0,5% di incentivi per chi converte il contratto a tempo indeterminato, di conseguenza con l'effetto negativo di cui parla Corsetto salta e incentiva il datore di lavoro ad assumere anche perché per il datore di lavoro i costi sul lavoratore sono anche la formazione che fa nel tempo fino a che deve rinnovare il contratto, quindi non vuole perderlo. Lui nella sua difesa ha spiegato perché non fa bene questo decreto, va affrontato il tema lavoro a 360 gradi, perché se io affronto il tema a 360 gradi, ma vado a colpire delle cose così sposte... La Commissione del Lavoro sarà stimolata a fare questo. No, la Commissione del Lavoro, siccome il governo può presentare a parte i decreti dei disegni di legge, è lì che va manifestata la volontà politica di come uno vuole cambiare il mondo del lavoro. Io ho detto che questo governo è nato un mese fa, però Maglio Di Stefano... Io non avrei fatto questo decreto, avete fatto troppo in fretta, avete fatto troppo in fretta, l'ho detto, ma ho detto troppo in fretta, perché ha detto che verrà introdotto appunto un incentivo che consentirà, diciamo così, anche di arginare quel timore. Poi è che hanno ascoltato qualcuna delle critiche fatte in questi giorni. No, questo è un punto importante, perché poi lo sappiamo che l'unica cosa che funziona sono gli incentivi agli imprenditori. Ci sono oltre mille emendamenti, quindi è migliorabile. È migliorabile. Vediamo quanti sono davvero di merito e quanti sono semplicemente per rompere le scale, come diceva Crosetto. Però l'incentivo per passare a tempo indeterminato ci sarà. Grazie a Maglio Di Stefano, grazie a Guido Crosetto e a Giacalone. Adesso c'è Andrea Pancani e Coffee Break. Arrivederci. Grazie a voi.